E ci siamo, aspetta Ciao a tutti, sono Roxy Allora, aspetta che Dezoomo un po' Dezoomo Ciao a tutti, sono Roxy Voglio provare la thumbnail prima che si scordiamo Come si dice thumbnail in italiano? L'anteprima La miniatura Un'altra E io che ho i chips Un'altra cosa Ciao a tutti Ciao a tutti Siamo a Los Angeles e sono con Roxy E lascio il dato del suo canale Youtube Nel box informazioni E nel suo canale trovate un video di assaggi italiani Che sono andata a cercare un po' in giro così E tutta varrotta Una roba un pochino più strana E adesso invece assaggiamo Snack Americani Yes Assaggio snack americani in America Ha un senso questa cosa ragazzi Io sono venuta dall'Italia per assaggiare gli snack americani E te l'ho trovati Ma ragà I broccoli Ma che c'entrano i broccoli Allora da quale iniziamo Roxy Iniziamo da Questo qua che c'è i fagioli I fagioli E allora queste sono tipo patatine di fagioli secondo me Che però fanno le pennette di pasta E' vero E' vero ma se faccio così lo metto a fuoco Si lo metto a fuoco Ok è a fuoco Ok e si basta E' nervino assaggiamo Però guarda Sono un po' come quelli giapponesi Perché ci sta sempre l'ingrediente segreto Che è felice di essere mangiato Dov'è l'ingrediente segreto? Vedi guarda sono felice Sono sempre felice di essere mangiato E guarda c'è davanti addirittura Guardiamo la logica di questa cosa C'è il fagiolo che immagina che diventerà una patatina E verrà mangiato ed è felice Ma chi è che le pensa a queste cose? Comunque ragazzi 3, 2, 1 Io non ho mai assaggiato questi Sono nuovi Oddio sono commentata Questa è un'altra thumbnail però Aspetta Sì Va bene Assaggiamo? Assaggiamo Cin cin Interessante All'inizio sembrano quasi tipo I puff per consistenza Però non è proprio tipo puff Un po' meno puffoso Vero? Sono buoni Non mi viene in mente cos'è? Non mi viene in mente Sono buoni Ho assaggiato una cosa simile Una volta ho assaggiato Vi lascio il link? Una volta ho assaggiato Delle tortilla chips Dei nachos ai fagioli Ma sono buonissime Sono veramente buone VOTO 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 Otto e mezzo Vabbè io non mi voglio sbilanciare Io gli do Sette e mezzo Sette e mezzo Sì perché secondo me sta altra roba interessante Proviamo! Next! Next! Prossimo prossimo Quale? Broccolo o l'altro? Dai broccoli sono tre giorni che ne parlo Andiamo, sentiamo sti broccoli Questi sono broccoli, patatine e broccoli Broccoli e patatine Cioè broccoli e patatine Che c'entrano i broccoli e le patatine? Non lo so però sono croccanti Croccanti broccoli Broccoli croccanti Eccolo Scusate che sbampa Ma che è? Sono proprio broccoli ragazzi Sono proprio broccoli Oddio ma sono croccanti Ci sono dei broccolini Aspetta mettimi a fuoco il broccolino Metticela mano dietro No, coprite la faccia Manepica Ecco Prendi questo broccolo Eccolo Broccolino È un broccolo, si ma senti che odore Ok, io sono commentata Sono felice Io no, io ho paurissima No, secondo me sono buoni Ma sono leggeri Ma che è che li hanno disidratati? Forse sono disidratati Pronta? Sei pronta? No Sei pronta? Proviamo! Sono buoni Oh no, no, forse no Non lo so Il retro gusto alla fine Non è buono, eh Mi stai mangiando Devo capire Io sono una giudice imparziale Ma perché No, non capisco Sono strani Sono troppo Se ne prendo uno piccolo Cioè all'inizio a me piacciono Però poi Il retro gusto finale È un po' strano, vero? Sì Ma perché inizio sono croccanti Oddio Ma qual è tutto sommato? Secondo me più ne manciamo Più ci abituano Più ci piacciono È un po' strano È un po' strano È un po' strano È un po' strano Il mezzo punto in più Io non potevo dare per l'innovazione Per la fantasia Eccetera eccetera E poi fanno bene i broccoli Eh I broccoli fanno bene Il metodo alternativo per mangiaverdura Eh Io gli do 7 dai Non so così No, no Io rimango su un 6 e mezzo Kale chips Allora Che io ho paurissima di questi kale chips Perché me ne vanno tantissimo E ho paura Allora Qua Qua in America Il kale cresce abbastanza Sono tipo Sono tipo gli spinaci È tipo la cicoria nostra praticamente È crescita appena È tipo la cicoria Esatto Però mi sa che in italiano Si chiama cavolo nero Quindi non è Ah ok Ehm E praticamente Sono anche facili da fare queste patatine Perché Basta metterle in forno Per qualche minuto E si fanno Ah Solo che queste sono ancora più speciali Perché C'hanno tutte cose dentro C'hanno un po' di Tutte cose Anacardi La crema de carote Che tu dici che ti piace È tutto È tutto Eh sì c'è Onion Aceto di mela Limone Aglio Io domani proprio parlerò Con le persone Sono tutti felici di parlare con me Quindi apriamolo Aprilo tu A me mi piacciono queste confezioni plasticose No Abbiamo a te Confezioni plasticose del Amelie Casper E non mi la faccio così Qua Non ha opzioni Deve per forza mettere un po' questo E infatti mi mi piacciono Ok Ok Beh Asseggiamo Odoriamo prima Perché questi odorano Top Questo odora definito Mmm Interessante Oh Agglomerato di foglie con sopra roba Proviamo Proviamolo Senti Alla fine si sentono tutte le cose Alla fine si sentono tutte le spezie insieme Oh Oh no non mi piace Oh no 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 Alla fine si sentono tantissimo raga Ma Ma No No non mi di che ti piacciono questi Impressante No ti prego È molto forte il sapore hai ragione Ma ha bruciato la gola Cioè Ammazzato Cioè Uccisa Una persona ha ucciso No No È il cavolo nero Pau Ma infatti lo dice Pau Non è il cavolo nero che ha questo sapore Ecco la roba che hanno messo sopra Ehm Sai che cos'è che te brucia È l'aceto di bene che te brucia la gola No no Perché c'è stato l'aceto Che poi non ce lo mettevo un po' d'aceto qua sopra Cioè buttamocelo È quello che brucia alla fine È brucia da morire Voto 5 5 Mmm 5 E te Ma Non gli ho La sufficienza che la voglio Sei meno Sei meno 5 è troppo per Dio Ma dai ti prego no No perché Io queste me le potrei mangiare Cioè Non che le ricomprerei Però Io il 5 lo do a una cosa che No non me la mangio mai più nella vita Ma io questa non me la mangio mai più nella vita Allora 5 Mai più Mai più Ma questi sono dolci o salati? E non lo so Allora questi sono Ok quindi next 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 Quindi questi sono Questi li ho visti Li volevo provare troppo in un mio video Però che faccio Faccio un video intero e provo una cosa sola Quindi poi ho fatto no Li proviamo insieme Questi sono Mochi Nuggets Allora i mochi Sono tipo dei dolci giapponesi Sono mollicci E sono fatti di riso fondamentalmente E praticamente qua hanno fatto l'americanata Perché li hanno fatti a nuggets Cioè hanno fatto dei nuggets Di mochi E c'hanno pure la band E c'hanno la band E c'hanno la band E sono la batteria Vedi? Sì c'hanno la band Guarda questo qua dietro che sta corteggiando il codice a barre E' vero lo sta facendo giuro Giuro gli sta suonando Oddio che dai Giuro Ok quindi sono commentata Però questi mi ispirano Mi ispirano bene Mi ispirano perchè non stanno i muazzetti Io le faccio contro le packaging Ecco perchè le ispirano perchè non stanno i muazzetti sexy Qua che sono la batteria Qual è il tuo preferito? A me piace quello da batteria No a me piace Questo qua pazzo Ok Vai apriamo I soffi Ma sembrano pezzettini di formaggio Sono dei cubetti Mi sa che sono dolci comunque Questi secondo me sono buoni Sembrano dei pezzettini di formaggio Hai ragione Però più duri Sì Ok Ok Ma male eh Buoni Sanno di qualcosa che so Io pure Ma non l'ho detto Aspetta E' calesterito No E' qualcosa pure che non mangio sempre da piccola E' la polenta fritta Oddio sanno di polenta è vero Questa polenta fritta Sanno di polenta E' pulenta E' pulentin Troppo buoni Troppo buoni Perchè per esempio a me Ma questa è qualcosa di La polenta normalmente non piace tanto perchè E' Dipende dalla consistenza no? No Mi piace questi che sono croccanti mi piacciono Vabbè ma neanche fritta E' gialla Però quando è molliccia no Quando è buono Mi piace Però questo è buono Mamma mia ragazzi Sono dei cubetti croccanti di polenta Con me questo prende 10 10 Appoggio Quasi 5 10 Concordo pienamente Questa la vita C'è ma questo mi rispondo Boy No Ma ragazzi A me il sorso Mi fa proprio paura C'è C'è questo il sorso L'ho saluta Allora queste sono Barrette di avena Al ginger Come dice il ginger? Ehm Ah aspetta Queste io le ho assaggiate in un video E a me Sono piaciute Quindi vediamo un po' Quindi sicuramente a me non piaceranno Cioè Perché abbiamo questi opposti Cioè Sicuro Già lo so Io sto tremando per questo motivo Vediamo Aspetta Ah i mochi avevo dato 10 Ok Sì sì Mochi tutta la vita Ah no Ah una barrettina Carina Tiè Soft baked Mh Oh Apriamo Ah si si sente comunque la spezia Aspetta famoglielo vedere Ma non c'è la La cannella? No Io sento odore di cannella Oddio può darsi eh Io la sento proprio questa cannella C'è C'è la cannella La cannella c'è Potrebbero quasi piacermi ragazzi Proviamo Buone 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 Aspetta Questo col cappuccino regà Aspetta Se c'è fosse lo zenzero che picchia Spacca Spacca Buone Questo No ci puoi fare il colazione Quanto gli diamo? Queste pure meritano raga 9 e mezzo Si 9 e mezzo 9 e mezzo Buone 9 e mezzo Non è male C'avevo paura di queste Ah No no Infatti io quando l'ho viste Anzi no Tu ti sei interessata al supermercato Hai visto l'orso Perché c'era l'orso Perché io mi faccio comprare i pupazzetti Esatto Ho visto l'orso E allora gli ho detto Sì 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 Quella l'ho assaggiata Pre diavole Pre diavole Allora adesso Queste mi fanno forse più paura Quanta paura mi poteva fare l'orso Potesse farmi l'orso Vabbè l'italiano è una lingua Che ormai è morta E' stramorta Ce l'abbiamo dimenticata Ok Queste sono fette di arancia Ma non è che dici Secche C'è proprio arancia Ragà arancia Però non è secca E' disidratata Non è disidratata Ma c'è quella la buccia Ma io mi devo mangiare la buccia C'è tutta la buccia Queste non le ho mai assaggiate Ok Queste devono essere terribili Però a te piacciono le cose un po' aspre Sì Però secondo me queste sono terribili Dici Vediamo Sono terribili No Ma come fai a sapere che sono terribili Ma dai ma credo Ho mangiato la buccia Ma ci viene mal di pancia Ma non ci viene mal di pancia Ma non ci viene mal di pancia Proviamole Così proprio a morderla Sì Potrebbe piacere Potrebbe piacere No C'è qualcosa che non mi sconfinfera Però A me piace Potrebbe piacere Potrebbe piacere Vedi se sapessimo farle Lo butteremo tutte le bucce Ma si possono mangiare queste bucce? A quanto pare si possono mangiare A quanto pare si mangiano A me piacciono Io gli do otto Io gli do otto Non ci allargiamo così tanto Ho otto Ce l'ho un sette 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 Per essere poetica Io gli do Io gli do l'otto C'è Otto per me significa Ti finiresti questa bustina? Sì No Sette nel senso Sì l'ho assaggiato Ti posso dire Ok Però no Però no No L'ho finito No Oddio è la parte più bella Mi l'ho dimenticata Sì Stiamo per assaggiare Uno dei drink più famosi sul web Più famosi del mondo Per i tutti Per i tutti Che l'abbiamo messo in frigo Per i tutti Ok Oddio mi l'ho dimenticata Ma io sono troppo momentane ragazzi Bicchieri nuovi ci servono Altissimi gli belli Bicchieri di plastica Però porta tutta la bottiglia Certo Ragazzi Cabuccia Ok Faglielo vedere Cabuccia Cabuccia ragazzi Il drink più famoso di Los Angeles Del momento del 2017 Ma c'è la roba in mezzo Guarda sotto c'è tuttanto il deposito Vabbè è come il succo Non l'abbiamo agitata Che fatti Lo dovevo bene Ma no Vi ricordate quando I succhi quelli a vetro Che c'avevano la frutta E' per forza proprio così Ma io non so come E' a base di che è sto coso? De cambuccia Ma chi è sta cambuccia Ma che cacchio è? E' cambuccia No è combuccia Cambuccia Combuccia Voi non lo so Comunque Vi racconto Se voi Andate sui canali Di persone californiane In questo momento Tutti servono sta cambuccia Ma pure la Chiara Ferragni Io l'ho scoperto tramite Chiara Ferragni Ma pure lei è cambuccia Si C'è sta cambuccia da tutte le parti Lei l'ha fatta entra in pista sta cambuccia Con diversi gusti Però non abbiamo preso l'originale Assaggiamo l'originale e vediamo di che sta E quindi è a base di cambuccia E provamolo Però E lo devo aprire? Eh si No Tieni Allora Come è qua? Sotto No Oh No No Questa è la camera Fallo vedere No Ha Non ho insegnato Cosa Devi condividere questo con il web Stavo portando nell'ordine Cioè Non sa se Lei se ne va E' tutta apposta Ok prendi tutto Ok la cappuccia è esplosa ragazzi ok non la dovete agitare non la agitate questa è stata è stata colpa mia assolutamente non andava agitata questa è stata a 100% colpa mia si ma che sono queste cose che si muovono dentro non te ne preoccupare ma sono vive non è vivo vedi che si muove oh mio dio ma sta pressione troppo no ragazzi è vivo io non me lo bevo è certo che non è vegan no aspetta un attimo non può essere vegan guarda non può essere perché c'è c'è la cambuccia che noi non sappiamo cos'è va bene poi c'è il mirtillo, limone ginger e basta è 100% del pur amore che sono gli esserini veri che cacchio è il tuo cambuccia vediamo se riusciamo a farglielo vedere a loro che c'è qualcosa che si muove eh non si vede però cerca un po' però pensavo che era una radice è una bevanda fermentata leggermente effervescente ed è prodotta a partire dal tè nero o tè verde vedi che non sono girini sembrano girini ma non è vivo posso aprirla? così li vediamo a parte che mo li vediamo nel bicchiere ma potrebbe essere perché dice che sono alimenti probiotici vissi probiotici vabbè ma i batteri mica li vedi da occhio nudo infatti quello pure è vero no raga mi sono troppo spaventata da questa cosa adesso io mi dici ma che non so vivi ma no che non so vivi ma sembrano girini raga ma mi fa piacere a tutti che ci stanno i girini dentro come dovevi così quei girini non so raga non sto a fare soltanto per voi arriviamo almeno a 6.000 like sto proprio esagerando boom sembra birra a birra coi girini a birra coi girini ma non ci stanno guarda quando ho tenuto verso vedi che non ci sono no ok dove lo metto però acqua si però ok happy new year buon anno odora di vino sentilo e infatti oddio è vero è alcolico stavo a bregare tu devi guidare no ma non sarà alcolico è solo fermentato per quello vegan c'è scritto vegan vegan è gluten free quindi non può essere un girino oh il odoraccio raga no cioè è una purga cioè profuma di una purga ok è pronta vai sta un po' tacito eh anche perché mentre lo bevi senti comunque l'odore che è è da cedo è aceto aceto frizzantissimo ma chi fa piace così è aceto frizzante questo non è potrebbe quasi piacere ma all'inizio quando si è tutto col frizzantino però poi ma tu immaginatela questa non fredda no 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 ragazzi la gambuccia no abbiamo deciso bocciata la gambuccia cioè è aceto è aceto frizzante cioè come è come bere l'aceto è come bere l'aceto è come puzzano pure le mani di aceto di aceto allora io questo lo poggerò a terra comunque no che delusione ragazzi se avete assaggiato la gambuccia ditemi diteci se vi piace se non vi piace e diteci se magari ci sono altri gusti che non sono l'aceto che magari possono essere buoni dobbiamo scoprire Chiara Ferragni quale beve perché io non ci credo che si beve questa cosa tutti i giorni lei ci deve avere proprio impazzita questa gambuccia 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 ma perché non è buona cioè non ha senso vabbè però adesso noi da bravi instagrammer faremo una cosa un'instagram story con la gambuccia perché facciamo hashtag cambuccialife cambuccialife hashtag 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 youtube live ok quindi chi vince i mochi aspetta tu non ci hai dato il voto hanno dato la gambuccia no è cinque allora sì cinque cinque cioè non è proprio quattro che che non riesci a berla anche se io tutto il bicchiere non lo riuscirò a bere no per quello cinque cinque però sì cioè se fosse stata quattro tre o due o uno l'avrei scudata proprio però non è che non è che fa schifo cioè non è che è proprio imbevibile è tipo come se begate un po' d'aceto nell'acqua e ve lo bevete io pure date un mochi il mochi vince dai il mochi vince tutto forse ancora un altro sapore che non mi viene in mente è un sapore bello se lo voglio non bene buona se lo mi bagno tutti beviamo la fine ok ragazzi ah ti vince ah tu stai mangiando sto masticando allora ragazzi ok vai siamo quindi roxy per te qual è il vincitore il vincitore è i mochi i mochi i mochi nuggets troppo buoni anche per me hanno vinto il peggiore la cabuccia la cabuccia voglio assopinire la cabuccia io ci credevo tanto nella cabuccia e invece ha perso bu no ce n'era un altro che non ti piaceva i kale i kale chips però peggio ancora no stanno allo stesso livello kale e cambuccia no per me la cambuccia è la peggio si ok immagina che te hai a cena i kale qua la cabuccia c'è finito cosa mangi stasera? un po' di kale chips with the cabuccia ma fantastico cioè il pasto migliore del mondo comunque ragazzi con questo è tutto ovviamente vi aspettiamo anche sul canale vi aspettiamo come se ci fossi anch'io beh ci sono anch'io nel tuo video certo quindi vi aspettiamo il video ve lo lascio linkato nel box informazioni anche il suo canale di youtube e niente con questo è tutto no e se andate tutto e e se andate da questo video al mio si fa tarico il ciao quindi e se andate da questo video al mio video sotto al mio video scrivete i love cambuccia cambuccia perché perché venite da questo video di là non sapranno perché voi state scrivendo questa cosa quindi mandate il paranoia e dicono perché questi stanno a scrivere esatto quindi tutti i miei scritti che fanno a parlare delle cose comunque con questo è tutto noi vi ringraziamo per aver seguito il video lasciate tanti like e anche perché abbiamo bevuto la cammuccia per voi buongidini solo per voi buongidini dentro e niente ci vediamo al prossimo video un bacio ciao 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 ciao